Qualcosa alla turba? Il mio attaccante ha un malessere. Increscioso. Vorrei rimpiacciarlo. Desolato, ma le regole del fantagioco non lo consentono. Restrittivo. I giochi di Fantasy Sport si sono evoluti. Con Fantasy Team ogni settimana puoi fare più formazioni e cambiarle fino all'ultimo. Fantasy Team. Play. Have fun. Win. E noi cosa aspettiamo? Il prossimo secolo.